Quando fai una poesia improvvisata devi raccogliere dei dati molto velocemente e poi mentre la canti componi con questo schema matematico, quindi è un problema di velocità anche perché devi intanto cantare e chiudere il racconto che hai iniziato a fare, mentre canti pensi un po' come quando uno canta una canzone, una soprano canta una lirica, pensa allo schema, a tutti i movimenti del diaframma, però anche pensa al senso della cosa, pensa all'emozione, deve provare un'emozione, cioè è un'azione che si svolge, che si costruisce mentre la fai, è un'invenzione che vive mentre la costruisci, mentre c'è e quindi giustamente la ragazza disse è una forma particolare di concentrazione.